Avvocato Di Noia, come si è evoluto negli ultimi anni il diritto penale in ambito finance? Allora, innanzitutto si è evoluto tantissimo, perché cominciano, nell'ultimo decennio soprattutto, ma direi nell'ultimo ventennio, cominciano i procuratori della Repubblica a perseguire questi reati. Quello che devo dire, che però si è evoluto più di tutti, non è il mondo del penale finanziario, ma è il mondo delle imprese, perché adesso le parcelle non le pagano più né gli imputati né le imprese, ma addirittura le assicurazioni. L'evoluzione del diritto penale finanziario ha fatto sì che tutte le società, o almeno la maggior parte di essi le più importanti, si cautelassero anche per le spese legali legate ai processi finanziari. Grazie.